C'è chi trova brutto l'atteggiamento ormai fortemente radicato nella politica contemporanea dove c'è un capo branco che lancia un messaggio e la truppa prontamente annuisce e ripete in continuazione quello che il capo suggerisce di ripetere. A me invece pare che sapendolo leggere questo comportamento, questo atteggiamento può essere pure un po' divertente. Certo scoprire che persone che pensavi con la schiena dritta, quasi dritta, si piegano a comportamenti a volte umilianti per loro naturalmente in cambio di un piatto di fagioli pure sconditi sulle prime ti fa pensare, però poi fai ricorso all'esperienza maturata con l'età e capisci che così è e che non sarà manco tanto facile cambiare, non a breve perlomeno. Tanti signorsì, tanti caporali, ma anche se li sai vedere fanno pure tenerezza. Alcuni addirittura riescono pure a essere divertenti, non tutti, ma insomma qualcuno ci riesce.